Il prezzo alle stelle del gasolio sta creando danni enormi alla marineria. Da giorni il settore chiede aiuti di fronte alla corsa inarrestabile del prezzo del carburante, raddoppiato nel giro di pochi mesi che sta mettendo a serio rischio le attività dei pescatori, già provati dal maltempo e dalle norme europee per la riduzione dello sforzo di pesca, che riducono sempre di più le giornate in mare. Per protestare contro questa condizione stamane una delegazione di marittimi, anche giuliesi, si è ritrovata a Roma per una manifestazione in piazza Santi Apostoli con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere risposte immediate al governo. A rischio c'è la chiusura di molte attività. Non è mai accaduto una cosa del genere. Il gasolio a questo prezzo qua non è mai... Io da che tempo non ricordo, sono 30 anni che vado in mare e non ricordo questo prezzo del gasolio. C'è praticamente un'unità da pesca, un peschereccio grande, che deve spendere solo di gasolio circa 1.200 euro al giorno, 1.100-1.200 euro al giorno. Quanto pesce deve prendere? Quanto lo deve vendere? Cioè, secondo me è un tracollo. Se non si trovano dei giusti provvedimenti... Certo, dispiace, tutto è accaduto a causa delle recessioni della guerra, tutte queste cose qua, purtroppo è a catena. Siamo caduti tutti uno dietro l'altro, stiamo cadendo. E questo è il problema, non solo nostro, ma è il problema dei trasportatori che trasportano il pesce, dei prodotti ittici. Attualmente non arriva nessuno... Ci siamo informati, non ci sta pesce estero che arriva in Italia attualmente. Sembra tutto fermo. Le associazioni di categorie stanno provvedendo... Hanno fatto dei tavoli, Federpesca ha fatto un tavolo al Ministero, almeno per delle sovvenzioni o per anticipare il fenomeno biologico. Qualsiasi cosa si potrebbe fare è una soluzione per i pescatori. Conviene stare fermi adesso, perché già vai in mare, vai a combattere col mare mosso, queste cose qua. Mettici il ghiaccio, mettici i contenitori, anche noi per evangolare i sacchi. Non è i contributi delle unità da pesca, non è il modo di... Non può essere, non si può lavorare così, e questo è il punto.